Mentre sembra essere scongiurata la chiusura del traforo del Gran Sasso dopo l'incontro di ieri sera al Ministero, in cui pare si sia trovata una certa convergenza e quadratura, l'attenzione del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, impegnato questa mattina in una riunione in prefettura, continua ad essere alta. Il primo cittadino infatti è più prudente e continua a nutrire qualche perplessità, nonostante si sia stabilito un piano di azioni condivise. Perché non c'è una soluzione definitiva, perché ci sono ancora dei passaggi che la concessionaria deve fare e anche il Ministero, perché ritengo che si stia ancora consumando il braccio di ferro e come in genere accade in questa sceneggiatura thriller a cui siamo stati abituati nei confronti tra Strada dei Parchi e MIT, la soluzione o le mezze soluzioni arrivano sempre all'ultimo momento. Il problema è che sinceramente come cittadino, prima ancora come rappresentante di questa comunità, credo che bisogna dire che ci siamo stancati di assistere a questi balletti consumati sulla pelle delle comunità locali, delle comunità delle aree interne. Secondo le note ufficiali, dopo l'incontro al MIT saranno adottate una serie di azioni congiunte e coordinate per dimostrare che il traforo non deve essere chiuso e che la tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'acquifero del Gran Sasso è comunque garantita, senza compromettere la circolazione di persone e merci. Ci sarà dunque un protocollo rafforzato di monitoraggio ambientale della risorsa idrica, facente capo al Ministero dell'Ambiente, con pianificazione dell'emergenza demandata alla protezione civile di concerto con la Regione e un piano di limitazione della circolazione sulla tratta autostradale operato da strada dei parchi, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attesa a questo che il commissario straordinario, previsto da un emendamento governativo allo sblocca cantieri, possa prendere in mano la situazione con le risorse per la definitiva messa in sicurezza del sistema idrico. La stima si aggira attorno ai 170 milioni di euro, che sarà il governo a dover garantire. Il sindaco Biondi ribadisce però che a lui non interessano le beghe tra la società e il Ministero, ma un servizio adeguato è alle autostrade e un traforo che assolutamente non deve chiudere. Per oggi chiederò con maggiore forza che si adottino anche misure forti per dire chiaramente a strada dei parchi che il traforo non va chiuso.